Credo che ci sia bisogno adesso di un mix tra conoscenza del partito in quanto tale, direzione politica e soprattutto cultura amministrativa. Io penso, spero di poter essere utile ovviamente non da solo, da soli non si basta nemmeno a se stessi, ma con una nuova squadra rinnovata anche per rinnovare un gruppo dirigente di cui c'è bisogno. Lavoro, scuola e sanità pubblica, ambiente. È su queste cose che dobbiamo costruire l'identità del Partito Democratico. Lavoro, scuola e sanità pubblica. Grazie. Grazie.